Samir vieni di qua dove sei qualcuno allontani stai a distanza non fatti prendere anche te due ragazzi l'ho fermati l'ho ammanettati l'ho fermato un secondo Samir dove sei? un è scappato casa della zia no sono tutti e due qua no no questo è scappato sta un addorso nudo qua alza le mani 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 alza le cazze di mani ho detto non ti sento zio alza le mani alza tu le cazze di mani alza le mani raga questo no ha fatto la capiola e mi ha sparato ha fatto la capiola e mi ha sparato Raga, ha fatto proprio fai da chi? Mamma mia! Armi da fuoco, armi da fuoco. Mi hanno sparato. Stanno sparando. Hanno sparato a Giuseppe, hanno sparato a Giuseppe. Ok, hanno provato a scappare, con la macchera da Cloud che armato. Hai capito che ha fatto? Ha fatto la capriola e mi ha sparato. Cioè, così non gioca. Così che tu fai la capriola e sparo. Ragazzi, ripiegate veloce. Cioè, ha fatto la capriola e mi ha sparato. Giustamente, io mi sono abbassato perché ha fatto la capriola e mi ha sparato. No, così si gioca. Perfetto.